Come si tratta di un'altra scuola? Sì, quando hai una scuola, quando hai una scuola in stadio, ti senti un'altra scuola. Significa tanto, perché indossi una maglia di un top player della squadra campione del mondo. Insomma, è stato arrivato a parte adesso. Come si tratta di un'altra scuola? La scuola è importante. La scuola è bene nella mia legame. È bene tagliato. Sono contento con la nuova scuola. Il materiale è bene. Per me è una nuova scuola. Sono molto belle. Sono diversi rispetto a quella della scorsa stagione. hanno delle strisce un pochino più strette. La maglia è caratterizzata da tecnologie. È importante, come sempre ha fatto Nike. Il stadio è bello. Il club è bello. Io genito, io genito ogni giorno. Io non posso aspettare per la nuova scuola che inizia. Siamo arrivati. Interessato. Ciao. 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 Grazie a tutti